Cominciando dall'approccio il più brutto di inizio stagione, che cosa è successo Auteri? Ma il più brutto non lo so, di sicuro ci siamo innervositi tanto perché è stata presa contro di noi una decisione arbitrale importante in cui ci è stato assegnato un calcio di rigore contro, che se l'ho andata a rivedere ma non c'è bisogno di andarla a rivedere. Ci dovrebbero essere dieci rigori a partita, un po' abbiamo accusato il colpo, abbiamo anche rischiato di prendere il gol del 2-0 però anche se non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo poi abbiamo reggito, abbiamo sciupato qualcosina abbiamo avuto anche una palla importante con un'azione corale con Sida che ha sbagliato l'ultimo controllo davanti al portiere e poi ci siamo innervositi, siamo un po' innervositi nel primo tempo, verso la fine del primo tempo insomma piccole scaramucce, abbiamo pensato poco a giocare, nell'intervallo ho chiesto di pensare soltanto a giocare abbiamo fatto alcuni cambi, hanno aumentato il peso offensivo, nel secondo tempo è stata tutt'altra partita abbiamo avuto soltanto il difetto di non pareggiarla prima pur avendo costruito nell'area piccola 7-8 occasioni importanti e non siamo stati bravi nel finalizzarle, poi però questa partita l'abbiamo riequilibrata e ha dato dei parametri questa gara, siamo alla quinta giornata di campionato, ha dato delle indicazioni importanti Quale indicazioni le ha dato? Le indicazioni sono quelle che ho detto, che non ci dobbiamo innervosire, che dobbiamo rimanere tranquilli e che abbiamo come sempre bisogno di tutti, che ci dobbiamo migliorare in alcuni frangenti e che poi ci dobbiamo anche augurare di avere, in tutto il rispetto lo dico, delle terne un po' più esperte perché insomma primo anno, secondo anno, dieci partite arbitrate, chiediamo un po' più di attenzione Allora io faccio qualche considerazione tattica, a cominciare dalla difesa che secondo me con i braccietti non ha lavorato bene nella prima parte di gara, tanto perché è invertito rispetto a Ponte d'Era i due e se è d'accordo che gli anticipi sia di Lanes a sinistra che di Ingrosso a destra le uscite non sono state precise Non abbiamo fatto una buona partita, è vero, ci può stare, perché Lanes lì, perché era quello fisicamente più adatto a contrastare un giocatore come Volpicelli, che è un mancino, che rientra, sarebbe andato sul suo destro Non abbiamo fatto bene il motivo, probabilmente perché ci siamo innervositi subito ma io non voglio giustificare nessuno, però credo sia normale, pronti via dopo due minuti passare svantaggio su un episodio in cui, ripeto, con lo stesso metro di giudizio ci sarebbero dieci rigori a partita Poi prima di battere questo rigore, quel giocatore è stato sostituito tre minuti prima di battolo, ci siamo innervositi tanto ma è vero che non abbiamo fatto nel primo tempo una buona gara sotto il profilo della coralità e della continuità di gioco poi invece nel secondo tempo ci siamo tranquillizzati un po' di più abbiamo messo un po' più di peso offensivo davanti e ripeto, potevamo anche vincere da questa partita, non l'avremmo rubata nessuno non è che perché l'abbiamo pareggiata nel novantese non l'abbiamo rubata perché è stata una pressione continua Faccio l'ultima mia, anzi le ultime due domande mie La prima, rifarebbe la scelta di Rauti, Centrale, Dursi e Sinistra e poi invertirli dopo 20 minuti? Secondo me non ha fatto tanto bene l'attacco No, ma loro si cambiano spesso la posizione, non è la prima volta non hanno fatto una buona partita, quello sì, è chiaro che io mi aspetto di più ma per carità, senza mettere nessuno sul banco degli imputati giochiamo ogni tre giorni, le scelte col senno di poi ho pensato a quello perché li avevo visti bene così come ho visto bene anche altri giocatori che infatti hanno giocato quasi un tempo come De Marchi e Ferrari io non ho la bacchetta magica o la sfera di cristallo abbiamo tanti giocatori probabilmente non hanno fatto bene perché sono rimasti coinvolti nel primo tempo nella poca lucidità di tutta la squadra ho detto prima ci siamo innervositi nel secondo tempo invece la squadra è stata più ordinata in campo ha pensato meno a protestare, meno alle ripicche meno a rivolgersi verso l'arbitro ci siamo concentrati di più sui criteri di gioco la partita l'abbiamo recuperata ha cambiato tanto in tanti ruoli in tutte le partite ha dato tante possibilità ma chi è intoccabile senza Pompetti sono Memushay e Rizzo è oggettivo che lì c'è una carenza di organi no ma che serve? ma non è vero perché hanno fatto una buona partita poi c'è Giambò oggi non è entrato non c'è la necessità tattica un altro giocatore importante Pompetti rientrerà ma che serve dirlo? serve veramente a poco intanto Memushay e Rizzo hanno fatto una partita importante grazie a tutti